Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video, un video molto mattiniero perché c'è da parlare di tante cose perché sono uscite le versioni foil delle carte dello Structure Deck Cyber Strike che stavo aspettando è uscito, cioè ci sono le descrizioni su un nuovo Duelist, due Legendary Duelist e ho trovato altre due nuove carte per Maximum Gold e il Dorado tutta roba di cui parleremo anche in live su Twitch oggi se internet me lo concette, dato il tempo orribile, al massimo verrà slittata domani noi oggi comunque proveremo ad esserci ricordo anche tutti i link social in descrizione, tu e c'è Instagram e Discord e tutto quanto e partiamo con le carte allora, Structure Deck Cyber Strike Ultra ci sarà Cyber Dark Chimera, Cyber Dark Realm, Cyber Drago Finale completamente a caso completamente a caso, vabbè che è una carta buona, cioè fondamentale per giocare il Cyber Dark End Dragon che anche esso sarà ultra raro, però non l'avrei fatto ultra, ma va bene poi, Cyber Dragon Hearts, super raro Cyber Netic Horizon Ultra, quindi tutte le carte nuove che sono importanti per la strategia del mazzo, sono ultra Fusion Deployment che è stata appena ristampata Secret poi nel Mega Team mi immagino la gente che l'ha trovato come stia piangendo e Infinity Impermanent, super queste sono ah, poi Attack Man Cyber Super e Cyber Eternal Super quindi praticamente ce l'avevo azzeccato con tutte le carte queste erano le carte la fogliatura delle carte quelle che erano appunto brillanti e vabbè, ci sta ci aspettavamo questo le carte sono giuste sono queste qui e ok, credo che siamo tutti contenti a porte per Fusion Deployment che tanto alla fine l'avano ristampata Secret andava bene anche comune un po' inutile rifarla super però vabbè, penso che sia comunque una carta abbastanza abbastanza interessante poi, andiamo a vedere i nuovi Duelist Pack Abyss Duelist carte che fanno l'occhiolino a Mako Tsunami carte che fanno l'occhiolino a Mako Great Fortress Whale nuova carta appunto acqua appunto il mazzo sarà concentrato su questi mostri e andiamo a vedere la Great Fortress Whale livello 7 2550 2350 se Umi è sul terreno possiamo attivare questo effetto per il resto di questo turno tutti i mostri di acqua possono attaccare direttamente durante la battle phase dell'avversario effetto possiamo targettare un mostro dell'avversario che controlla e glielo spacchiamo poi una volta per turno se questa carta sul terreno è distrutta in battaglia per effetto di una carta possiamo prendere un mostro acqua un guerriero dal deco al cimitero e possiamo o aggiungerlo alla mano oppure specialarlo quindi fa l'occhio anche ai leggendari ai pescatori leggendari che il pescatore leggendario 3 e il terzo è veramente forte perché quando lo speciali praticamente ti banna tutto il resto del campo il Doom Kraken carta che ho visto che è forte ma raga questo è forte mi pare mi pare da quello che di aver letto che era forte allora possiamo utilizzare il secondo effetto una volta per turno se Umi è scoperto sul terreno effetto rapido possiamo poter chitare un mostro acqua che controlliamo eccetto ovviamente il Doom Kraken che era un mostro dell'avversario specialiamo questa carta della mano e se lo facciamo facciamo ritornare in mano il primo target e spacchiamo il secondo quando viene quando un mostro dell'avversario dichiara l'attacco possiamo fare ritornare questa carta nella mano e se lo facciamo neghiamo l'attacco non era questa appunto la carta forte la carta forte era la medusa la carta forte era la medusa Electric Jellyfish Fisalia numero 4 14007 allora gli effetti una volta per turno possiamo mandare un Umi dalla mano che ho scoperto al terreno e specialiamo un mostro acqua dalla mano quando l'avversario attiva una carta maggiore l'effetto di un mostro se Umi è scoperto sul terreno effetto rapido possiamo negare l'effetto e questa carta guadagna 600 di attacco permanentemente quindi non è fino alla fine del turno appunto questa era la carta forte questa è la carta forte mi sono sbagliato con il Kraken ma comunque sono tutte carte remake che fanno l'occhiolino a Makotsuna mi sono veramente contento Fish Sonar possiamo attivare un effetto di questa carta una volta per turno aggiungiamo un mostro livello 7 o inferiore che sia normale acqua oppure che nel suo testo sia specificatamente scritto Umi la decca la mano poi se invece come è scoperto sul terreno possiamo specialare un mostro normale acqua dal deck quindi è sempre uno specialino se abbiamo Umi la carta è veramente molto buona poi anche questa non è male sia stealth 2 si dico i nomi in inglese poi metto il 2 in italiano il nome di questa carta diventa Umi finché è scoperta sul terreno oppure al cimitero l'avversario non può targettare mostri acqua con gli effetti di mostri non acqua quindi veramente tanta roba all'inizio della battle phase possiamo specialare un mostro che cita nel testo specificatamente Umi oppure un mostro acqua normale dalla mano o cimitero in posizione di difesa ma lo distogliamo alla fine della battle phase carta comunque molto buona perché ti permette anche di tra virgolette otticappare quando inizia la battle levitan of the reef questa è l'ultima carta mi pare l'ultima carta che è stata rivelata possiamo mandare un Umi che controlliamo al cimitero non possiamo specialare mostri fino al fine del turno certo mostri acqua e in più specialiamo due mostri acqua normali oppure mostri che citano Umi nel testo con nomi differenti dal deck o dalla mano in posizione di difesa se l'avversario controlla mostro possiamo specialare un qualsiasi numero di mostri livello 6 o inferiore normale acqua dalla mano o dal deck il mazzo sembra veramente interessante parlo sempre di ambito for fun perché gli effetti sono discreti gli effetti sono carte che specialano ci sono carte che negano effetti ci sono carte che non fanno targettare quindi diciamo che potenzialmente il mazzo diventa abbastanza abbastanza carino da giocare quindi siamo io sono molto contento un mazzo che può essere giocato da molti chi è chi chi ha amato Mako Tsunami non può non essere interessato a queste carte quindi diciamo tanta roba mi piacciono veramente molto poi andiamo a vedere le carte di Masked e il dorado perché abbiamo visto l'ultima volta il numero i 100 1000 numeronius numeronia che guadagnava 100.000 di attacco poi avevamo parlando che si poteva giocare con il numero c1000 che è stato confermato in maximum gold e il dorado quindi tantissima altra roba ma è stata confermata la carta più importante alla fine la carta magia che serve per evocarle quindi numeron chaos ritual durante durante il turno se mostro il numero c numero chaos gate sania che controlliamo è stato distrutto da un effetto mostro possiamo targettare un numero network e 4 numeri exis in nostro possesso che sono stati banditi oppure al cimitero specialiamo numero c 1000 numeronius dall'extra deck ma il suo attacco diventa il suo attacco diventa 10.000 e anche la sua difesa no la sua difesa diventa 1000 mi sono incoglionendo con gli zeri ragazzi poi gli attacchiamo 5 target come materiali per il resto di questo turno possiamo soltanto fare una normal e una special in più quindi veramente una carta buona per evocare il numeronius non credo si riuscirà mai a giocare questo mazzo però comunque si continuano a far uscire i supporti di questo archetipo quindi numero c1000 numero caos rituale saranno confermati in maximum gold e dorado e niente questo era tutto ne parleremo sicuramente anche in live fortunatamente abbiamo anche la lista delle foliature di cyberstrike così siamo tutti contenti sappiamo tutto quanto e cyberstrike ormai ne abbiamo fatto di tutto e di più quindi ok detto questo noi ci vediamo come sempre nella live di oggi se riusciamo se internet ci permette oppure al massimo domani detto questo ci vediamo in un prossimo video e un saluto a tutti